Weeeh! Non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Daieee! Weeeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono Xyuder e ragazzi seconda lettera della parola Fortnite da sbloccare è semplicissimo dovete atterrare a scogliere scoscese raggiungere la casa più grande quella principale e una volta che sarete sotto e avrete sbloccato la sfida questo sarà esattamente il punto in cui troverete la lettera. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, noi siamo in live su Twitch, ciao!